Un ricorso contro la procedura che ha portato all'approvazione della variante al PRG di Silvi, ma anche contro il contenuto del provvedimento varato dalla Giunta Comignani, terminata anzitempo a seguito delle dimissioni dei consiglieri comunali, soprattutto per la variante al piano regolatore. Legambiente, a cui probabilmente si aggiungerà presto anche Italia Nostra, ha presentato ricorso al TAR, il cui primo effetto potrebbe essere la decisione di una sospensiva, come spiega l'avvocato di Legambiente ed ex consigliere comunale di Silvi, Antonio Del Vecchio. Noi ritrovavamo che il consiglio comunale con cui è stata approvata la variante non potesse svolgersi in seconda convocazione, ma andasse riconvocato un nuovo consiglio comunale. Ciò non è stato fatto, non sono stati ascoltati i consigli comunali che avevano evidenziato ed eccepito questa cosa nella conferenza del gruppo e in consiglio comunale, quindi si è deciso di impugnare dal punto di vista giuridico e procedurale la delibera. Poi c'è l'aspetto più nel merito che riguarda Legambiente, in cui ci siamo accorti che nella trasposizione sulla variante del piano regolatore non si è tenuto in mente conto dei nuovi piani di assetto idrogeologico che riguarda le frane. Noi abbiamo chiesto la sospensiva, quindi una volta che iscriveremo il ruolo il ricorso verrà fissato un'udienza pubblica in cui si discuterà sulla sospensiva. Da qui il momento in poi poi si andrà nel merito. Io penso che nel massimo un anno e mezzo, due anni dovremmo avere una sentenza. Dobbiamo difendere il territorio a rischio idrogeologico e la vocazione turistica di Silvi, su cui gravita anche l'area marina protetta del Cerrano. Queste le motivazioni che hanno spinto gli ambientalisti a ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale. Innanzitutto non vengono tenute all'interno delle realtà ambientali per quanto riguarda il discorso della corretta programmazione del PAI. E quindi questo significa non tutelare un territorio dal punto di vista ambientale, non tutelarlo nemmeno da un punto di vista di quella che è la proiezione verso il nuovo turismo, di turisti che vengono da fuori, che cercano un territorio di qualità e un territorio tutelato. Basti pensare alle ultime criticità che abbiamo avuto su quest'area proprio dal punto di vista ambientale.